che accusava il peccato di impazienza io l'avevo già conosciuta che lei mi aveva abbracciato quasi ugualmente il vostro caso marito e invece no, con lei io trattavo sempre con massimo pudore con rispetto a vostri cieli da fratello a sorella come hai detto? e io mi sono forse a che parte non ho capito e io mi sono forse a che parte e io mi sono forse a che parte e io mi sono forse a che parte no, non stai cambiando un cazzo per quello io insisto, hai capito? anche la ok mi hai detto tutte e quattro le volte e io mi sono forse a che parte sta diversa